Allora dicono che questo videogame per qualche motivo mette in crisi la 3080 Ah, è uno squiz Scusa ma la mano che cosa fa precisamente? No ragazzi ma non è un gioco di bambole vero? No frate io ho gli incubi coccoso Io ho gli incubi ancora coccati Che cazzo è sto rumore? Grosso trenino Grafica assurda Eh la grafica è carina però in realtà Dai per essere un giochino così sembra essere carina Scusa mi fai vedere? Verde rosa giallo rosso? Non so cosa intelligente Interac verde rosa giallo rosso Ok possiamo ficcare grossa cosa qui Madonna frate Porco dio zi ma dategli l'orfaina questo Mamma mia che va in giro E olè le bocce Chiedo venne a mefistofelico Toccos Che nel senso Frate c'è tipo capito questo Ma questo è utilissimo C'è questo fratello è l'aggeggio naturale per i pedofili Oh guarda un bambino E olè Oh guarda Aspetta ma funziona Ma lo tiri indietro Ma è crazy sta cosa Ma Holy shit E qui quindi devo ficcare grossa mano E vado avanti Intelligentissimo Come ti trovi a giocare mouse e tastiera? Mi viene da pompa Ok là c'è sta una mano Qua ce ne stanno due Quindi suppongo Anche perché nel video se ne vedevano due mani A fine della fiera Quindi ce posso stalli in cerca come roba Quindi io teoricamente Se meglio questo non mi convince per cazzo Si possono aprire prima ste porte Se puoi aprire in cazzo Mmm Che mondo vado? De qua Sta folli Ma quanto poco mi fido di lui Play con una suave melodia sarebbe perfetto Teoricamente dobbiamo sfondare qualcosa qui Sono molto Sono molto predisposto allo sfonding di Oh leo vedi Grossa Io voglio che voi il gioco ve lo pompate al massimo del volume Vi ho alzato al massimo Bambini di merda Cazzo volete Vabbè Aaaaaaaaa Aaaaa Aaaaa Ok E poi devo andare tutto di qua E lo picca questo Ok Quindi fungono da Tra 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 Precipitevolissime volmente Solipsista Sproloquio Subitaneo Sciamannato Tracotante Trasecolare Zuzurellone Zitella E il problema del videogioco è Come fanno muovere Bislungo Perché se il Bislungo si muove da Bislungo C'è posto sta Se il Bislungo si muove tipo tutto Orochimaru No eh Nexto il videogame su Ok Ok C'è sta grande grande videocassetta gialla Ci serve Se non si può andare avanti Tocca a trovare ne altri due dei quadrati Mi sa che tocca a trovare quello rosso E que E quello verde Andiamo a mettere prima questi Nel mentre si um Allora picchiamo C'è giallo E rosso Forse c'ho pure il verde Il verde ovviamente ce l'ho Allora ok Tocca a trovare il verde Queste sono Queste sono quelle situazioni in cui è l'unico Non lezionabile Il più cupidale Oh Ah Mazza frate ma sono il mostro dei collezionabili Non ho mai collezionato collezionabili in un videogioco Che pretende di collezionare collezionabili così velocemente Sono il collezionatore di collezionabili più collezionabile di sempre Oddio Ah Mi sa che mi dà l'altra mano Ah vedi Madonna ma quanto s'allunga sta cosa Ma potevi pure dà comunque Già sei Perché ho letto in chat uno che ha scritto Mo ti guarda dal condotto Ma è più bis lungo lui O la madre di mia mamma mi ha nascosto il giorno Beh mi sembra abbastanza bis lungo lui eh Mi sembra bast... Oh no c'è un tasto per abbassarsi E qual'è il tasto per abbassarsi? Meno male che il volume non era harta Eh c'è pure secondo me è c'è ma non mi sa abbassa Pure secondo me era c'è ma lo sto facendo e non mi sa abbassa Control Sì bella Madonna e che mani c'ho? Ma c'ho cinque dita Ok già sta cosa Ok già sta cosa che ci stanno tutti sti condotti mi puzza Grappa per completare il circuito Ah ok questo è mini... Ok questo è un casino Questo è mezzo casino Qua non ci posso entrare ovviamente Eh... Qua c'è... Ok 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 nel chillong Nell'omega chillong Fai così E l'altro Yoda è dall'altra... Non ci arriva Cioè io ci partirei pure da sopra eh Ah ma ci posso andare Ah ma io pensavo che qua ci potevo andare Vabbè ma allora... Ah ubiadolo ubiadolo guarda qua ubiadolo guarda qua ubiadolo guarda Buonasera Gianno Ah poi passo qua Ti do la luce Arrivo di qua Allora non mi sta a piacere il fatto che è nei condotti Cioè voi lo sapete sono anche claustrofobico Quindi il fatto che ci siano dei condotti non è Poi la terza la terza non mi spavento più Ezio per Cioè mu fai una porta mica con mano Poi la terza non mi spavento brutto clown I love you chico Ok Non la vo... Porco dio Non la vo... Oh ma tu fai La lo togge Invece io sognavo i piragna che mi sbranavano vivo e a volte anche delle posate che mi rinchiudevano in prigione per uccidermi Ma scusa ma se a me questo non mi serve Ma se a me quello non mi serve per passare io posso tranquillamente fare tutto il giro E mo passa al lato E basta Eh non mi serve lì Teoricamente io posso tranquillamente fare così A mano rossa qua è giusta Ok Ok Eh lo devo fare al contrario Ma pure secondo me Eh ma poi non ci arrivo mi blocco Vedi che me Io porco Pa 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 No no eh No eh No 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 Il cocus Per strai facile banale stupido Ciocco Cretino quasi Sì ma che cosa ho fatto Allora io ho dato agore Ah vedi power on e mo devo premere questo Sì ma i rumori sono scavati Ma che è questo volume alto Ah la leva Nel in più Mi sta in mezzo a bloccata Ma lo vedi Fai casca i giochi Vedi che ti dà il pupazzo O ti dà il pupazzo Tu prendi il pupazzo e lo ficchi lì Maiale Chi è qua Ah l'ho proprio preso Huge cock Capisci che Per i videogiochi horror che ho giocato io Questa cosa è la cosa più banale del mondo Due porte chiuse Per senso Due porte chiuse Una porta che si è aperta dopo un macello Il buio Lo sali da Gino Ma chiamatelo nel culo Porco Dio Benedetto del Cazzo il jumpscare è brutto Ok ho capito dove devo andare Teoricamente Mi sa che se era aperta questa Appena triggeri lui si apre No vabbè frate Ma io devo farmi i condotti con lui dietro Col jumpscare che dura mezzo millesimo di secondo Che ti si sta a girare il personaggio Se ti prende Tanto questo Ti segue all'infinito Questo è tipo cosa di Resident Evil Se tu riesci a salire su degli oggetti Dove gli hanno Gli hanno messo il trigger Lui si blocca Mazzacquanto sei Maaah Ma bò Ma per col dio Oh porco dio no 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 si no 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 aspetta no momma quanto gli son nato in bocca sì mazi control e di è sbagliato è controlli è un grande errore no frate ma è bruttissimo lui no 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 frate è brutto come la fame ah 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 no dove vado 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 v Oh, piccate voi a tutti! Frate sono le banno corse. 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 Arra! Arra! Ma se io mi fermo qua, lui menta! Ah! Ne l'ho dimenticato! Scusa, ma metti il cranchi dolci così comincia il pollice. Ah! No, no, corri! No! No, no, no! 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 No, ti prego, ti prego, ti prego! La bambola manina è per il cuore. Che fai? Ho sbagliato strada! Aia! No, 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 ti prendi bene. Occhillada! Occhillada! La luce! No, no, no! No, 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 no! Ma corri, 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 dio porco, corri! Somo! Un piano, va, 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 una l'ora, va, una l'ora! madonna puttana frate ma che è sta roba porco dio frate ma stavo a scherza vabbè wow ma me la chiavo nel culo me la chiavo che me ce devi dico sta roba c'è me fai un mostro bislungo blu ma poi me sbagli l'audio del volume da videocassetta è finito però dimmi che è finito please no anche perché questa roba è palese questa roba è outlast 1 e non ci voglio giocare peccatemi le palle voi e però fratello sai che cosa questa è palesemente la bambola il capitolo 2 sarà sua bambola mi hai aperto hai aperto la mia scatola ho aperto pure un'altra cosa 2 3 4 8